Allora, le perizie, adesso cambiamo l'argomento, sono diverse se difende un costruttore o difende un utilizzatore. Ed è qua arriviamo a quello che dicevi prima. Se difende un utilizzatore ha quattro capitoli principali. Rinaldo Sandri li chiama i quattro pilastri. Poi si chiama i quattro pilastri, i quattro gambe dentro. Quello che vuoi, sono quattro. Ed è valutazione del rischio. C'è? Non c'è? È incompleta? Cosa c'è? C'è adesso un capitolo in cui parla la valutazione del rischio di quell'operazione, di quella macchina, in quel luogo. Contestualizzata lì. Conformità dell'attrezzatura. Era conforme? Non era conforme? Era parzialmente conforme? Era stata modificata? C'è una storia? Perché posso raccontare tutta... Mi metto di qua così vedete. C'era tutta la storia magari della macchina, no? Organizzazione aziendale. Eh, questo è un capitolo difficile. Perché se è un colosso, magari ha il CDA. Se è piccolino, ad NSNC, può capitare che abbiamo più datori di lavoro. Mi sembrerà incredibile, ma c'è la duplicazione dei ruoli e nel penale non si divide la torta, si moltiplica. Segno 3 è 3. Non è faccio un terzo, un terzo, un terzo. Quindi è un cavolo di casino. L'RSPP dipende dalla sua posizione se è indagato o no. Deve aver fatto una cosa grave per essere indagato. Io ne ho difesi alcuni procedimenti penali e finora sono stati tutti assolti. Non ho ancora visto un RSPP condannato con me. Però magari è fortuna, non è che sia. C'è il preposti, ci sono formati, se erano presenti, se centravano, se erano abbastanza. Per contestare il fatto che ci sono i preposti di fatto nominati dalle autorità giudiziarie. E poi formazione addestramento. Che anche lì apriti cielo, la testata è vero, non è vero, la persona sapeva lavorare, era lì. Faccio un altro esempio. Come che faccio per spiegarlo? Caro Ponte, piccola officina metalmeccanica. Caro Ponte, ci sono delle catenarie appese al gancio. Sposto il Caro Ponte da lì a là. Banalissimo, così. Faccio solo col pulsante pian pianino, lo sposto lungo tutto il percorso. Arriva in posizione e le catenarie si agganciano a un pezzo. Nessuno c'era, nessuno sa com'è andata. Il gancio si sgancia dal pezzo in lavorazione e va in faccia all'infortunato. Questo finisce in coma per un bel po'. Perde la memoria, perde l'udito, è ancora in infortunio, non si sa se tornerà più come era prima. Formazione di questo operaio qua. Lui era stato formato a spostare il Caro Ponte con le catenarie dal datore di lavoro, non da un'azienda competente nel caricare e imbragare i carichi. Ok, ve la ripeto. Io quando carico un pezzo, devo sapere i pesi, usare una braga, una funa, una catena, un gancio, ma lui doveva solo spostarlo. Non doveva imbragare niente. Il pezzo dove si è agganciato era saldato. Quindi non c'è dubbio che dovesse spostarlo. Doveva solo movimentare, fare l'operazione di movimentare da qui a lì. E qui la formazione è fatta da persona competente o no? Capito? È fatta da persona, va bene o no? E qui ci sarà uno sconto tra noi e il PM su questo piccolo particolare, che non è un piccolo particolare perché fa cadere tutto. È stato un caso accidentale che la catena si sia agganciata o no? La nostra comunità è che si sia agganciata al pezzo perché c'è il pezzo rovinato. Ma nessuno ha visto. Nessuno sa come ha fatto a finire il gancio in faccia a questo uomo. Non aveva l'elmetto. Ma anche se avesse avuto l'elmetto, gli succedeva la stessa cosa. Perché il punto doveva colpito era sotto l'elmetto. Non avrebbe evitato il danno. Voi mi dite, sì, ma se avesse l'elmetto si avrebbe fatto male o male? No, per come l'ha colpito in questo caso specifico, no. L'avrebbe dovuto avere? Sì. Però non c'entra con il nesso causale. Il nesso causale è che l'ha movimentata male. Questo è. Era abbastanza formato o no? Boh. Un altro caso. Dove girano le bobine. L'azienda che produce carta. Da sotto svolge. Quindi non mi posso far tirare dentro. Da sopra avvolge. Quindi se metto la mano da sopra mi tira dentro. La bobina non è altissima. Ma non è neanche bassa. È un metro e sessanta, un metro e settanta. Quindi con la mano un po' avanzandomi con il punto così ci arrivo. Non c'è nessun motivo di mettere la mano lì sopra. Si può mettere da sotto. Il preposto, persona esperta dalla fabbrica, il più esperto di tutti, non si sa bene come mai mette la mano da sopra. E ci riesce. Anche lì mi domando ancora io, non ci arrivo però. Lui ci riesce. Quindi c'è evidenza che c'è l'uscito. Di vicino non ci sono pulsanti di emergenza o funi. Perché non è previsto di mettere le mani lì sopra. Non c'è motivo. Lui ce l'ha messa lo stesso. Come fa a salvarsi? Perché ha un taglierino e taglia la carta. E la macchina va in allarme perché la carta non è più tesa. Quindi si fa male solo alle dita. Quindi la macchina è conforme o no? Ni. Perché comunque il pare è basso. Nel senso la bobina è bassa. La persona era addestrata e consapevole di quel rischio. Si era quello che doveva sorvegliare gli altri. Era quello che formava gli altri. Era l'operaio del mese del mese di dicembre. Si è fatto male a luglio. C'era proprio la rivistina con l'operaio del mese. C'è proprio la faccia sull'operaio del mese. Quello più sensibile, più attento. E quindi il rischio era stato valutato? Sì. In quel caso l'Espresor ci ha contestato che non l'avevamo segnalato come corridoio di passaggio per andare in bagno. Ma il fatto che la gente andasse in bagno di là non c'entra col fatto che si sia fatto male mettendo la mano. Perché poi la vita è un po' curiosa. Ci sono un sacco di cose così. Il layout non era aggiornato. La stessa famiglia aveva costruito la macchina con una ditta e usato la macchina con l'altra ditta. l'ha indagato tutti e due i rami della famiglia sia come costruttore sia come utilizzatore. Come andrà a finire? Non lo so.